buonasera ben trovati dal passo del tonale siamo in compagnia di stefano negri che il proprietario dell'hotel delle alpi buonasera stefano allora è finito il lockdown l'estate è iniziata e l'hotel delle alpi ha riaperto quali sono le tue sensazioni l'hotel delle alpi ha riaperto ai primi di luglio siamo siamo quindi con tutti i servizi aperti chiaramente con nel rispetto delle norme del protocollo e non non possiamo l'unica cosa che non possiamo fare il buffet è stato sostituito da un servizio al tavolo al tavolo cerchiamo di diciamo di di compensare di di dare un servizio più attento al tavolo purtroppo dobbiamo sanificazione all'entrata all'area c'è che sono ancora nei luoghi comuni della mascherina immagino però un po tutto la vita è come prima ecco diciamo non è così diciamo che adesso siamo un po più nella normalità chiaramente seguendo tutte le le norme di sicurezza perché è importante la salute poi il bello della nostra la nostra località è che poi la gente sta all'aperto ci sono altri spazi maggior parte è molto grande per quanto riguarda le prenotazioni come stanno andando abbiamo abbiamo avuto una partenza un po più a rilento però adesso soprattutto nel fine settimana abbiamo un po di delle presenze maggiori e sembra anche che si sia mosso il resto della stagione quindi siamo fiduciosi fare una stagione un po più corta ma speriamo di avere i nostri ospiti qui al nostro hotel so che accettate il bonus vacanze abbiamo abbiamo scelto di accettare il bonus vacanze sembra anche che il procedimento sia meno complicato di quello che sembrasse e quindi i primi arrivi abbiamo già avuto qualche buono qualche bonus vacanze attivato e siamo c'è la soddisfazione da parte degli ospiti c'è una buona richiesta anche per questo tipo di servizio e ci siamo attivati per poterlo fare vogliamo dare i dati per potervi contattare per poter eventualmente effettuare una prenotazione certo l'hotel delle albi al passo del tonale siamo invece con l'azione 20 il numero di telefono è lo 0 364 90 39 19 potete trovare anche le informazioni sul nostro sito internet che hotel trattino delle albi punto com e vi aspettiamo per godere della natura degli spazi incontaminati che il passo del tonale offre benissimo allora ricordatevi stefano negri passo del tonale hotel delle alpi vi aspettano buona estate a tutti